Brutte notizie in vista di Salerno Inter perché si ferma anche Davide Frattesi un altro infortunio che si aggiunge a quelli di Quadrado di Sensi di Arnautovic tutti salteranno la gara di Salerno e non solo una squadra l'Inter che si trova quindi ad affrontare una partita davvero molto delicata dopo la sconfitta in settimana contro il Sassuolo ne parliamo oggi in questo nuovo episodio ben ritrovati e ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti vi chiedo subito un mi piace e l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti gli aggiornamenti in diretta e tutti gli approfondimenti sui temi caldi di casa Inter che portiamo ogni giorno e la notizia di giornata ovviamente come dicevo riguarda Davide Frattesi che era uscito non al meglio dalla gara contro il Sassuolo poi è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell'Inter che andiamo a leggere insieme l'Inter che scrive Davide Frattesi si è sottoposto ad esami clinici e strumentali presso l'istituto Humanitas di Rozzano a seguito di un affaticamento muscolare gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra e le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni leggendo questo comunicato possiamo capire che quando si parla di rivalutate nei prossimi giorni non si tratta di un infortunio grave però di sicuro salta la salernitana ma è evidentemente in dubbio anche per le prossime due gare prima della sosta per le nazionali quindi il Benfica in Champions League e poi il Bologna a San Siro almeno in dubbio se non già piuttosto probabile che salti entrambe le gare e quindi lo potremo rivedere dopo la sosta è un problema non da poco perché non è che Frattesi avesse brillato ecco nel nei pochi minuti subentrato nel finale con il Sassuolo ma anche contro l'Empoli però è abbastanza evidente come nelle ultime uscite Barella sta un po' faticando soprattutto Michi Tariana mi ha sembrato davvero stanco e preparando questa gara con la salernitana di questo weekend stavo già ragionando sulle possibili rotazioni che poteva fare Inzaghe quello che avremmo potuto vedere a livello di formazione e io personalmente individuavo soprattutto a centrocampo qualcosa da cambiare ed invece le scelte diventano praticamente obbligate perché dietro Barella c'è un angolo Michi Tariana che sono i titolarissimi di fatto rimangono Aslani e Klasen che abbiamo appena intravisto in questo momento in questa stagione quindi è una situazione che ricalca un pochino anche le difficoltà che l'Inter ha anche in attacco perché dietro Lautaro Martinez e Turam è rimasto di fatto soltanto Alexis Sanchez personalmente vi do un po' anche la mia opinione credo che la partita contro il Benfica in questo momento sia la partita più importante del mese e in generale di questo periodo perché è la partita che deve vincere a tutti i costi per indirizzare il girone di Champions League l'Inter deve mettersi in posizione di vantaggio visto che poi ci saranno le due gare contro il Salisburgo la prima in casa la seconda in trasferta e l'Inter deve poter gestire le ultime gare del girone con calma gli ottavi di finale di Champions League sono importantissimi è bene ribadirlo sia dal punto di vista sportivo ovviamente del prestigio soprattutto ma anche dal punto di vista economico perché non centrarli vorrebbe dire buttar via un po' del grande lavoro che è stato fatto a livello economico sui conti dell'Inter e quindi è importante centrarli assolutamente allo stesso tempo a Salerno contro la Salernitana è diventata una gara molto delicata perché la sconfitta col Sassuolo è una sconfitta che abbiamo analizzato al fondo nell'ultima diretta io vi consiglio di recuperarla se non l'avete seguita perché abbiamo davvero toccato tanti temi siamo andati veramente a fondo nell'analisi della gara e come dicevo è una sconfitta che dopo il pareggio con la Real Sociedad aggiunge qualche altro indizio da tenere d'occhio e non credo che ci si possa permettere di far diventare questi indizi una prova per quanto i numeri dicano che l'Inter è partita comunque bene addirittura meglio del Napoli dell'anno scorso però conosciamo bene diciamo i fantasmi di questa Inter e come dicevo sono d'accordo nel non dare un peso eccessivo alla singola sconfitta la prima sconfitta di questa stagione allo stesso tempo però non la si può far passare soltanto come un incidente di percorso e ripartire come nulla fosse c'è secondo me la necessità di dimostrare che gli errori commessi col Sassuolo a tutti i livelli sia individuali tecnici di impostazione della gara di scelte durante la gara bisogna dimostrare di averli analizzati di averli capiti e che si può e si deve fare un passo avanti la salernitana sono stato ospite nelle scorse ore in una tv in collegamento con una tv locale che segue da vicino la salernitana e da quello che dicono stanno vivendo un momento di grossa difficoltà c'è un po' di scollamento anche tra allenatore e dirigenza in questo momento solo tre pareggi in questo più di campionato tre punti in sei partite di campionato ha perso l'ultima gara proprio contro l'Empoli che abbiamo affrontato anche noi e l'allenatore Sousa dopo la gara ha parlato di peggior partita della sua gestione queste le parole dell'allenatore quindi è una situazione delicata anche per loro hanno anche loro dei problemi di formazione nel momento in cui registro è in forte dubbio la presenza di Candreva che per loro è un elemento molto importante un'arma in più è un po' il Berardi della salernitana se vogliamo fare un parallelo recente che ci ha fatto male manca un altro giocatore come Koulibaly la difesa si è dimostrata fin qui piuttosto attaccabile mettiamola in questa chiave qua giocano con un tre quattro due uno con due incursori alle spalle della prima punta che vanno tenuti d'occhio attenzione però soprattutto a Cabral è un attaccante rapido molto interessante ma soprattutto a Diabula Iedia che potrebbe tornare a disposizione dopo le turbolenze di inizio stagione dopo il caso per la mancata cessione e dovesse rientrare dovesse giocare è sicuramente un cliente molto scomodo da affrontare in ogni caso io sinceramente per quello che ho visto soprattutto nell'ultima gara e non solo farei rifiutare bastoni che mi pare ne abbia bisogno di sicuro inserirei Pavard perché massimo rispetto per Darmian che fa sempre il suo è sempre un ottimo giocatore però è il momento di far giocare Pavard con continuità a maggior ragione se riposa bastoni togli una fonte di gioco a sinistra ne aggiungi una più di qualità a destra avrei fatto rifiatare in questa gara uno tra Barella e Mkhitaryan probabilmente contro la Sametana adesso in queste condizioni è un rischio farle rifiatare perché vorrebbe dire mettere dentro Asdani e Klassen però è un rischio che probabilmente andrei a correre visto il momento delicato e la vicinanza con la gara con il Benfica probabilmente anche Di Marco lo sostituirei con Carlos Augusto Carlos Augusto mi ha fatto una buonissima impressione entrando contro il Sassuolo a gara in corso e in attacco vi dirò anche qui potrebbe essere un rischio però Lautaro lo vediamo un pochino appannato la difesa della Serenitana come dicevo è attaccabile la soluzione Turam Sanchez di cui si sta parlando in queste ore non è da buttare via poi all'occorrenza se non si riesce a sbloccare la partita magari butti nella mischia Lautaro Martinez a gara in corso che sicuramente è più incisivo come cambio rispetto ad un Alexis Sanchez è il momento in generale comunque che i big di questa squadra tirino fuori quel qualcosa in più che in alcuni momenti post derby non si è visto del tutto perché è un momento delicato con vari infortuni la condizione che pare non brillantissima però i valori di questa inter sono sicuramente più che sufficienti per battere una Serenitana che sarà spalle al muro con la necessità di ripartire quindi rappresenta un insidio da non sottovalutare comunque fiducia noi come ogni giorno saremo in diretta alle diciannove e trenta per gli ultimi aggiornamenti e gli ultimi approfondimenti nel giorno della partita ovviamente live dalle diciannove trenta per le formazioni e il commento di tutta la gara quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi nulla dei approfondimenti e appunto il nostro commento sulle partite vi lascio per chi ci ascolta in podcast anche un altro approfondimento da non perdere lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui ciao ciao ciao